Gentili telespettatori, buona giornata. E così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dice che aveva ragione Silvio Berlusconi, quando definiva Giorgia Meloni supponente, arrogante, ridicola. Un duro attacco di Matteo Renzi alla Presidente del Consiglio perché è stato indicato da Sallusti come il capo complottaro contro Giorgia Meloni. Lui ha risposto a Sallusti ritira quello che hai detto o ci vediamo in tribunale. Anch'io credo che non c'entri nulla perché Matteo Renzi, che ha già i suoi problemi con la magistratura, ve lo immaginate a capo di un complotto con i giudici sulla sorella di Giorgia Meloni? Mi sembra assolutamente inverosimile, proprio lui non credo. E così, chiamato in causa, nella polemica sul caso Arianna Meloni, lui, nella sua newsletter in Facebook, se non sbaglio, ha ricordato le critiche scritte da Silvio Berlusconi nel 2022 in un appunto, tra virgolette, privato, ma Berlusconi l'aveva scritto molto grande e poi l'aveva messo a favore dei fotografi con telecamera e teleobiettivo che erano in Parlamento. Quindi l'obiettivo di Berlusconi era proprio far leggere agli altri quello che lui pensava sulla Meloni e quindi scrivesse delle frasi che i giornalisti prontamente col teleobiettivo captarono e pubblicarono. Ma era proprio nell'intento di Berlusconi, lo scrisse grande su sto foglio quello che pensava della Meloni. Va bene. E Renzi dice, la penso sempre di più come Silvio Berlusconi in quei celebri appunti dell'ottobre 2022 fotografato in Senato. Dice proprio così, Giorgia Meloni ha un comportamento ridicolo, è supponente, prepotente, arrogante, offensiva. Così il leader di Italia Viva ricorda proprio uno dei casi che avevano creato tensione nel centro-destra prima della nascita del governo. E l'intervento di Renzi è arrivato tramite la sua newsletter dove ha fatto una lunga presa di posizione sul caso di Arianna Meloni, dove l'editoriale di Alessandro Sallusti ipotizza che ci sia proprio lui a capo di tutto questo. L'indagine di cui al momento non c'è poi nessuna prova perché chi è andato alla procura di Roma per verificare se c'è un'indagine in corso su Arianna Meloni, gli è stato risposto che non c'è nessuna indagine in corso. Secondo Sallusti invece ci sarebbe un complotto tra giornali di sinistra, politici di sinistra e magistratura di sinistra. Quindi nell'editoriale Sallusti citava proprio Renzi che avrebbe un ruolo in questa macchinazione. Invece poi il giorno dopo Sallusti avrebbe ritrattato dicendo che il leader di Italia Viva sarebbe solo una persona utile al gioco del complotto, che sarebbe cascato in questo complotto ma non sarebbe un organizzatore perché con i suoi parlamentari Renzi avrebbe chiesto al governo di riferire in Parlamento e dire se Arianna Meloni ha influito o no sulle nomine delle partecipate dello Stato. Quindi Renzi poi dice con i suoi parlamentari noi come opposizione abbiamo il diritto di chiedere basta che voi in Senato poi affrontiate il problema dicendo sì è avvenuto, no non è avvenuto punto e basta. Renzi ha quindi ricordato che sul caso di Arianna Meloni non la presunta inchiesta ma la sua presunta partecipazione ad alcuni vertici del governo sulle nomine in Rai e Ferrovie dello Stato Italia Viva si è limitato a presentare delle interrogazioni parlamentari dice abbiamo richiesto che il governo risponda in aula sui criteri delle nomine non solo Rai e Ferrovie dello Stato ma in tutte le altre partecipate. Renzi dice la risposta di Fratelli d'Italia che prima è stata una scarica contro di me dicendo qualsiasi cosa e contro quelli che sono i politici di Italia Viva una reazione gravissima in democrazia la maggioranza governa, l'opposizione controlla e la realtà è davvero che l'opposizione ha il compito di controllare quello che fa il governo. L'opposizione alla fine è la parte importante della democrazia l'opposizione in un paese come l'Italia perché l'opposizione non serve ad opporsi come immagina la Schlein sempre comunque a prescindere. L'opposizione deve controllare il compito dell'opposizione è quello di controllare quello che fa il governo e dire questo va bene questo non va bene questo andrebbe andrebbe fatto meglio. Quindi se Italia Viva chiede diteci cosa state facendo è assolutamente una delle prerogative della democrazia e una delle prerogative parlamentari. Poi Renzi aggiunge ancora più grave la Meloni e i suoi hanno iniziato a gridare al complotto. Penso sia il ventunesimo complotto della Premier che dice con questo governo ormai ci sono più complotti che riforme e il complotto sarebbe un complotto organizzato da me e da Italia Viva con i magistrati e i giornalisti per far indagare Arianna Meloni. Dice se domattina Arianna Meloni riceve un avviso di garanzia, cosa che peraltro non mi auguro, a me non cambia assolutamente nulla perché io sono davvero garantista e per me un avviso di garanzia non impatta sul dibattito politico. La mia critica al governo è politica. Abbiamo un paese in mano alla parentocrazia tra Premier, sorelle e cognati. questa concentrazione di parenti esiste solo in Italia e in Corea del Nord ma questo non c'entra nulla con l'eventuale avviso di garanzia ad Arianna Meloni. Infine ha aggiunto che Giorgia non può dare lezioni di garantismo, può darci lezioni di vittimismo, materia su cui potrebbe tenere un master all'università. Per poi ricordare e condividere le parole di Berlusconi che dice aveva proprio ragione Berlusconi nel definirla in quell'elenco di cose che poi sono finite sui giornali. E poi dice sull'assoluta inconsistenza della politica economica del governo Renzi dice Italia Viva continuerà a fare la sua parte senza alcun riferimento alle indagini che non ci riguardano e non ci interessano. Se la Meloni è preoccupata se quando avrà voglia ci spiegherà il perché dice Matteo Renzi. Grazie a tutti e arrivederci a presto.